Ciao, bentornati e bentrovati. Questo video oggi nasce dall'esigenza che ho avuto a studio, o meglio che hanno avuto tre miei pazienti. È stata una casualità, erano tre donne che stavano allattando e tutte e tre sono venute a studio chiedendomi se potevano prendere una un antibiotico e le altre due due antinfiammatori, perché una aveva la febbre e le altre due avevano dei dolori, una alla testa e una alla schiena. Ho deciso quindi di fare un po' di chiarezza su quali farmaci si possono prendere durante l'allattamento. Partiamo dal presupposto che l'1-2% del farmaco presente nel sangue della madre va a finire nel latte materno, quindi diciamo che sono quasi tutti i farmaci abbastanza sicuri. Allora, per quanto riguarda gli antibiotici, il farmaco di elezione è sempre, come nella gravidanza, la penicillina, quindi la moxicillina sia che abbia non abbia l'acido clavulanico, e anche le cefalosporine. I macrolidi, ossia l'eritromicina, deve essere gestita con più attenzione perché passa molto più facilmente degli altri due antibiotici nel latte. Per quanto riguarda invece gli antinfiammatori e gli antidolorifici, io consiglio sempre il paracetamolo. Se comunque doveste prendere qualche altro farmaco, chiedete sempre al vostro medico curante o al vostro farmacista. Dal momento che però molti farmaci possono alterare anche il gusto del latte, adesso vi do una serie di consigli pratici per far sì che il vostro bambino non rischi l'assunzione del farmaco, né tantomeno rifiuti il latte per alterazione del gusto. Il primo consiglio pratico è quello di far fare la poppata al bimbo e dopo assumere il farmaco, e aspettare almeno quattro ore per effettuare la poppata successiva. Se doveste aver bisogno di allattare il vostro figlio molto più frequentemente o se aveste assunto quantità eccessive di farmaco su indicazione del medico, il mio consiglio è quello di prevenire questa situazione togliendovi il latte il giorno prima e quindi di dargli il latte tolto con il tiralatte. Anche qui vale sempre la regola, cerchiamo di prendere meno farmaci possibili, ma se ne abbiamo bisogno sotto controllo medico prendiamoli, perché lo stare male è molto più dannoso per il nostro umore e quindi per quello di nostro figlio. Quindi per chi ha la fortuna di allattare al seno durante questo gesto unico e ripetibile, questa comunione tra madre e figlio, guardate intensamente vostro figlio, sorridete perché sorridere farà bene a voi, ma soprattutto a lui che vi sta guardando. Ciao, noi ci vediamo nel prossimo video!